Siamo nel cuore del quartiere dove si trova la parrocchia Redentore. Inaugurata il 6 gennaio del 41, la struttura è diventata nel tempo un punto di raccolta per gli abitanti della zona. Famosa per il suo oratorio salesiano per la scuola professionale che sfornava tornitori e fresatori, di cui il mercato era famelico negli anni del boom economico, al suo interno offriva anche un cinema oggi scomparso. La sala di proiezione era frequentatissima dagli anni 60 fino alla fine dei 70 da ragazzi e famiglie che la domenica mattina si accalcavano per assistere a film di guerra, western come i capolavori di Sergio Leone e tutta l'interminabile sottoserie che ne seguì negli anni. E a proposito di pellicole, qui con me Claudio Procaccio, Daniele Di Maglia e la dottoressa Isabella Scarpa che si sono imbarcati in un progetto cinematografico molto importante dal titolo il dottor Uova, una storia d'altri tempi. Bentrovati a tutti. Allora, dottoressa, chi sono gli attori che interpretano questo film e com'è nato questo progetto? Allora, l'iniziativa nasce da un lungo laboratorio teatrale espressivo condotto dalle staff educativo del centro di urno Hotel San Francisco di Bitritto e in collaborazione in rete con altri centri diurni tra cui l'Oasis Center, l'Hotel San Francisco di Trigiano e delle comunità psichiatriche di Cassano e di Villa Adriana di Palese. I ragazzi sono ragazzi con diversa patologia psichiatrica e neurologica dalla sindrome di Down, ragazzi autistici, ritardi mentali, insomma, con varie difficoltà. È stato appunto un lavoro abbastanza lungo condotto e supportato, diciamo, da Claudio Procaccio come regista e ovviamente dal lavoro quotidiano di tutti gli educatori. Inizialmente è stato difficile, complesso ma man mano, sin dalle prime battute, i ragazzi hanno acquisito proprio una dimistichezza, una bravura proprio nel girare e nel portare avanti appunto questo splendido lavoro. Allora, Daniele, tu sei l'autore della sceneggiatura. Ce ne vuoi un po' svelare qualcosina? Allora, sì, la sceneggiatura è nata, diciamo, un anno fa, l'idea. Ed è il frutto di un lavoro sotterraneo condotto al centro di urno San Francisco, a Bitritto. La cosa che più mi ha lasciato soddisfatto è che i personaggi sono ricalcati esattamente sulle singole personalità dei ragazzi. La cosa ha sortito, diciamo, effetti sorprendenti e noi abbiamo lavorato proprio sulle difficoltà di ciascuno rendendo queste difficoltà in qualche modo dei pregi. Ovviamente i ragazzi non hanno, come dice Claudio, i tempi attoriali per cui abbiamo dovuto faticare in questo senso però diciamo che la cosa ci lascia molto soddisfatti sia per come hanno reagito durante tutto il lavoro i ragazzi alcuni dei quali, ad esempio il protagonista, il dottor Uova suggeriva continuamente sviluppi, soluzioni per cui sta cosa ci ha in qualche modo... Quindi è stato uno stimolo a livello creativo per loro? Molto, molto. Ovviamente non tutti loro hanno compreso il disegno, diciamo, generale della storia, della trama però comunque si sono divertiti hanno vissuto un paio di mesi, diciamo, in un mondo alternativo infatti la cosa che vorrei sottolineare è che questo film è composto interamente da diversamente abili e penso che sia una delle prime esperienze in questo senso e soprattutto abbiamo cercato di coniugare una storia complessa, articolata con un quadro patologico vario, variegato e penso che avremo dei frutti non indifferenti rispetto a questa cosa perché do qualche cenno sulla storia di cosa parla Sì, certo, un po' della trama, sì Allora, sì, il protagonista è il dottor Uova che è uno scienziato, un fisico nucleare che la notte di Natale decide di intraprendere un viaggio nel tempo per risolvere molti problemi dell'umanità alla radice quindi va nell'età della pietra per risolvere il problema della violenza va nella Grecia del VI secolo a.C. per impedire la diffusione del denaro che si ritiene sia la causa principe della differenza fra ricchi e poveri sarebbe dovuto andare nell'Inghilterra previttoriana per sventare la costruzione delle prime fabbriche però per questioni di montaggio di tempi abbiamo tagliato però qualcosa non gira per il verso giusto per cui si trovano in qualche modo a vagare per le ere senza soluzione di continuità fino a capitare in un futuro sinistro, plumbeo, abitato da uomini macchina che gestiscono un traffico di rifiuti in questo futuro i rifiuti sono l'unica fonte di energia i nostri viaggiatori ricevono in dono la tecnologia per convertire i rifiuti in energia e finalmente ritornano a casa e si accorgono che il loro esperimento è fallito però poi ci sono degli sviluppi che non svelo Ma com'è nata questa ispirazione? Cioè questa storia ha una trama piuttosto complessa? Certo, frutto della mia... Claudio invece per quanto riguarda la regia come è andata, tirando le somme cosa ci vuoi dire? Allora all'inizio avevo molta paura perché chiaramente insomma dovendo lavorare con questi ragazzi che non hanno tutte le capacità insomma avevo molta paura però sono stato smentito dopo il secondo giorno dopo il secondo giorno di ripresa è perché ho scoperto in questi ragazzi delle capacità di comicità uno spirito di squadra incredibile addirittura tra di loro si facevano forza perché chiaramente loro hanno grossi problemi a livello di memoria quindi dover ricordare le battute e i movimenti perché poi cambiando il punto macchina insomma loro dovranno ripetere la stessa battuta effettuando gli stessi movimenti come potete ben capire è abbastanza complessa come cosa però sono stato smentito perché insomma loro mi hanno sorpreso hanno scoperto un grosso... cioè hanno un affetto incredibile quindi sono stato letteralmente stupito da questa esperienza Senti Claudio ma quindi a livello umano è stata un'esperienza straordinaria ma quando si può assistere alla prima? Allora io invito tutti a provare le stesse sensazioni che ho provato io quindi a partecipare il 10 marzo mercoledì, è mercoledì giusto? Non siete preparati? No, non ho studiato Allora vi invito tutti il 10 marzo al Teatro Piccini di Bari alle ore 19 per poter visionare questo film interpretato interamente da ragazzi meno abili quindi insomma invito tutti i comuni anche tutti coloro che operano in questo settore perché insomma come ho scoperto io che il cinema può essere una terapia per questi ragazzi vorrei che anche gli altri centri anche altra gente che ha a che fare con questi ragazzi insomma scopra le stesse mie cose Dottoressa ma c'è qualche altro progetto in cantiere dopo il successo magari raccolto con questa esperienza? Allora diciamo che questo è il terzo anno di questo progetto di cinematerapia che noi facciamo di anno in anno diciamo è diventato sempre più importante non ce l'aspettavamo neppure poi diciamo che all'interno del centro del lavoro quotidiano di progetti ce ne sono tantissimi in progetti di musicoterapia ci sono delle manifestazioni in cui i ragazzi invece sono stati anche musicisti diciamo in qualche modo con l'aiuto ovviamente degli educatori hanno interpretato dei brani li hanno scritti loro ed è stato anche molto bello per poi tutta la parte invece delle attività quotidiane e delle attività mirate invece alla psicomotricità quindi dai progetti in acqua l'ipoterapia insomma tutto a 360 gradi una riabilitazione a 360 gradi bene io vi auguro l'in bocca al lupo per questa prima visione e anche per il futuro insomma per nuovi interessanti progetti grazie tutti il 10 marzo al piccine Lardo! 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 non c'è tempo si deve partire subito ma cosa è che ti sei messo in testa di salvare il mondo non è cosa ecci per il ragione lascia i battimenti agli assistenti penitenti che nel tempo vogliono piaccia pronto? pronto? vada l'ora pronto? ragazzi non si siate il telefono non si è messo in testa